Ciao, benvenuto in questa nuova puntata, questa volta dedicata ad un concetto legato a tre verbi, il verbo essere, il verbo avere e il verbo fare. Sicuramente farò tre video post dedicati a questo concetto perché è essenziale sottolineare soprattutto inizialmente che aggiungo ai due verbi che sono conosciuti nella tradizione come i verbi della sostanza e il verbo, diciamo, dell'apparenza, aggiungo un terzo verbo che appunto è il fare. Già in italiano sono due verbi fondamentali l'essere e avere, sono due ausiliari, quindi praticamente sostengono tutta la struttura dell'azione e quindi dell'attività da parte dell'uomo. Ma andiamo nel dettaglio. Il verbo essere, dal mio punto di vista, io lo associo alla dimensione reale, alla dimensione dell'essere profondo. Quindi è un verbo che indica una totale stabilità e fermezza, non appartiene al mondo del divenire, qual è quello del verbo avere, appartiene appunto a questa stabilità dell'essere. Invece il verbo avere a partire al mondo del divenire. Infatti il verbo avere può assumere connotazioni duali, nel senso che si può avere delle cose come si può non avere delle cose. Per quanto riguarda questo discorso della dualità, vediamo perché il verbo avere appartiene al mondo del divenire. Perché tutto ciò che è essere, nel momento in cui si manifesta nel mondo del divenire, è come se si attaccasse a questa materia. E nell'attaccarsi a questa materia, se ci si identifica con il mondo della materia stesso, il mondo di una materia che è illusoria, abbiamo parlato diverse volte che tutto ciò che è materiale è anche definito illusorio e, diciamo, virtuale. Il verbo avere rappresenta appunto questa virtualità. Andiamo ad affrontare invece il terzo argomento, cioè il verbo fare. Che cosa fa l'essere in questo mondo virtuale? Teniamo presente che l'essere profondo, che è la vera dimensione dell'uomo, ha necessità però di fare esperienza proprio nella dualità, cioè nel mondo virtuale, nel mondo dove si presuppone ci siano delle scelte da fare, delle decisioni da prendere. Quindi è il mondo dell'azione, il mondo in cui l'essere deve necessariamente manifestarsi per comprendere la sua essenza. Cioè per conoscersi deve necessariamente manifestarsi, deve necessariamente esistere nella manifestazione. Il verbo avere non configura questa manifestazione perché configura solo una parte dell'essere, cioè la sua, diciamo, il suo progresso nel mondo della virtualità. A questo punto, nel momento in cui l'essere si manifesta, il verbo più idoneo alla sua manifestazione è proprio il fare. Cioè se un'essenza che vuole conoscere se stessa non si manifesta, non esiste, è come se non ci fosse, non ci fosse a se stessa. Cioè esiste come dimensione reale ma non porta nessuna forma di evoluzione, l'evoluzione si ha laddove si manifesta e quindi fa. Il verbo fare è un verbo molto collegato al verbo essere da questo punto di vista e quindi l'essere che fa, la dimensione reale, vera, profonda nostra, che agisce e fa e costruisce il mondo come esperienziale affinché possa comprendere effettivamente chi è veramente e ricordarsi anche nella dimensione virtuale di chi è, è necessario che faccia. Però abbiamo noi di mezzo anche quest'altro verbo che manifesta l'attaccamento alla materia. Quindi che cosa succede? Che nel momento in cui l'essere si manifesta può decidere di attaccarsi alla materia e quindi identificarsi con la stessa e quindi abbiamo appunto un aspetto solamente dell'essere che è quello del possesso e dell'avere. Il verbo avere manifesta soltanto la realtà virtuale, non quella reale. Il vero ponte tra l'essere e il mondo virtuale lo fa appunto il fare. Ma mi si può obiettare a questo punto che anche chi ha può fare, ma il fare di chi ha, di chi vive identificato nell'avere, è un fare materiale ed è fine a se stesso. Cioè siccome è un fare legato alla dualità può avere, aumentare il suo possedimento, il suo possesso oppure può diminuirlo. Mentre l'essere di per sé, siccome è stabile, la progressione la ha soltanto all'interno dell'evoluzione. Quindi chiunque possieda o comunque è identificato nella materia e dà valore a questo verbo, sostanzialmente legato al mondo virtuale, non fa altro che allargare l'indagine nel mondo virtuale, ma non ricordarsi della sua vera essenza. Il verbo avere manifesta appunto questa parte della virtualità. Allora a questo punto è necessario capire come può l'essere integrarsi e fare un'esperienza coscienziale nel mondo del divenire che porti alla comprensione, alla conoscenza di se stessi. È necessario a questo punto che l'essere si integri con il mondo virtuale. Il ponte, diciamo, l'esperienza funge da ponte a questi due mondi. Il mondo virtuale che è necessario all'essere per evolversi e il mondo reale che è il mondo appunto effettivo dell'essere. Tutto ciò che sarà fatto nel mondo virtuale porterà ad un incremento coscienziale, ad una presa di coscienza dell'essere profondo che espanderà la sua essenza proprio sperimentandosi nella dualità. Quindi questo mondo virtuale, questa dualità, questo mondo dell'avere, questo mondo della forma, lì è funzionale. Tutto il mio posto è articolato sul fatto che se invece ci si identifica con l'avere, si rimane ancorati al mondo virtuale e non si esplora invece la propria essenza profonda che ha necessità invece di espandere la coscienza. Con l'avere non si ha la possibilità di espandere la coscienza. A questo punto ci si può dire, vabbè, ma anche il verbo essere può essere non essere. Infatti che cosa succede? Che se l'essenza profonda non si manifesta e non fa nel mondo virtuale, non è. Quindi bisogna necessariamente fare, altrimenti è come se non ci sia niente e nessuno. Quando sappiamo benissimo che il mondo virtuale, per esserci, noi lo conosciamo come lo conosciamo noi nei dettagli del divenire, deve avere necessariamente una funzione, altrimenti non avrebbe senso proprio la vita. E la vita è fatta di esperienze e queste esperienze servono per allargare la nostra coscienza. Ciao, al prossimo post e vedremo che cosa uscirà ancora. Ciao ciao! Grazie a tutti!